Ben trovati un aggiornamento con le previsioni per la giornata di domenica quando il comparto occidentale dell'Europa sarà interessato dall'anticiclone mentre più ad est dell'Italia passaggio di sistemi atlantici con moto nord ovest e sud est. Andiamo al dettaglio quindi perché sull'Italia il tempo sarà un po' grigio e fosco, sul versante tirrenico per nubi medio basse e un po' di nuvolosità questa volta anche al nord. In sintesi la mappa dell'Italia con nubi medio basse sul Catino Padano, tutto il versante tirrenico qui anche delle deboli piogge tra Toscana e soprattutto Liguria. Altrove più sole le temperature comunque ove sarà soleggiato toccheranno anche i 15-17 gradi. Ulteriori dettagli approfondimenti li trovate scaricando l'app di Trevi Meteo.